Rieccoci ragazzi, qui è Suzzy che mi parla e rieccoci ad un nuovo gameplay di Outlast. Non vedevo, oh è tutto avagato, facciamo i pesci oggi. Non vedevo l'ora di ricominciarlo perché veramente mi sta prendendo un sacco. Ripartiamo con altri documenti. Cos'è? Mkultra CIA, omicidio sotto ipnosi. Programma Mkultra Documento CIA, ricerca e sperimentazione sull'ipnosi, 1954. Un po' vecchio e si vede ancora. Ah no, vabbè, sarà stato stampato adesso. Mercoledì 10 febbraio 1954. I lavori di ricerca e sperimentazione sull'ipnosi sono proseguiti nell'edificio 13 della riserva di Mount Massive in Colorado. Ok, siamo in Colorado credo, forse. Sono stati sottoposti ai trattamenti e ai seguenti soggetti. Omissis, è stata indotta una suggestione post-ipnotica della notte precedente. Quando punterai il dito ti addormenterai. I maghi qui ci sono, eh ragazzi. Ci sono i maghi. Per svegliare la signorina Jackson. In che senso le ha sparato? Profondo sonno. In caso di fallimento avrebbe dovuto impugnare una pistola che si trovava nelle sue... Oddio! E sparare alla signorina Jackson. Entrambi i soggetti sono stati risvegliati e hanno dichiarato di non ricordare nulla. Oh no. Un po' complicata quella trama, devo dire. Ce n'è un altro. L'effetto medico su William Hope. Paziente del progetto Wallrider. Ok, abbiamo Walker e Hope. Ah no! Ma l'avevo letto già! WTF? Ok. Direi che possiamo continuare. Perfetto. Magari senza questi urletti. Qui che cosa c'è? Ok, non c'è una minchia. Bene. Machine... Per superare l'ostacolo con un salto, premi spazio... L'ho capito! Storage room. Electric room. Machine room. Amnesia machine for... Qui non c'è nulla. Anzi, io controllo che non si sa mai c'è qualche roba. Ecco appunto. L'apro. Sono sempre io. Batteria. Qui cosa c'è? Una Coca Cola. Perfetto. Allora... Boom. Andiamo. Ok, direi che adesso si deve usare più forza. Upchart. Upchart. Ehm... Sono... Upchart. Permesso? Cos'è questo posto? Ah, sì, assomiglia molto a Silent Hill Down pur Sì, io faccio la sponsor di videogiochi, ragazzi Bene, un sacco di acqua Ok, una porta Non mi chiedevo andare, scusate, ci sono mille porte Ok, una di queste sarà aperta Questi sottofondi, mamma mia, che cazzo gli ha fatti Ok, questa è aperta Non si vede nulla, ok, è una cosa rossa Premio impulsante per attivare la pompa Mamma mia, stai calmo Zoom, è incazzato Apshar Morin Ok Vai sotto al letto Veramente? Oddio, ragazzi, possiamo nasconderci anche sotto i letti? Arriva il maio Oddio, oddio Oddio, abbiamo fatto bene Che è questo? Abbiamo fatto bene, ragazzi Oddio Oddio, si sta per scaricare la telecamera Anche se è pardo non mi senti? Blutto gattaccio, non cinese Allora, stiamo filmando da otto minuti Certo, come no? Credo che si possa uscire a sto punto Vedete, lì c'è una batteria, la vedo È luccicante Perfetto Usciamo allora Ora verde Quindi funziona Batteria Si può ricaricare anche dopo No, 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 no Minchia, è stelto questo Sì, ho fatto il scarico Ok, ricariciamo Porco Giuda Porco Giuda Porco Giuda Nasconditi Nasconditi Non mi può prenderlo Oddio Oddio No Non vedo nulla Cazzo Ragazzi, che figure di merda Stai cammino No, no, sono morta Dai, Ashar Maldizione Eh ragazzi, mi prende Come cazzo faccio, scusate È lì fuori Oh, aspetto No Devo ricominciare da qui Ok ragazzi, io taglio A dopo Ok ragazzi Rieccoci Sono entrata in un'altra stanza Non so come mai Ah, sono molte pompe Non è solo una È ora dove mi nascondo, scusate Non so Faccio crouch Cosa devo Non lo so Cosa devo fare Ragazzi È peso È peso sto gioco Compratelo Mi raccomando Perché è veramente pesante Non so se c'è il tipo Cerchiamo Porco Giuda Porco Giuda Non mi ha visto No ragazzi Non voglio perdere di nuovo Ragazzi Ragazzi Ho paura Ok forse non ci ha visto Se ne è andato in cielo Il blutto gattaccio Se ne è andato in cielo Ero terrorizzata letteralmente Ok quindi Ogni stanza ci dobbiamo nascondere Va bene Eh sì ma ora stanno fuori quelli Come cazzo faccio Crouch Facciamo crouch È di fuori Sto tornando Sto tornando Sto tornando Corri Corri Crouch 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 No ragazzi È impossibile Questo pezzo Dove mica sto andando È impossibile Questo pezzo Ragazzi Qui Non c'è nessun blutto gattaccio Cosa devo fare Ma porco Giuda Vattene Via Ok Forse mi devo Nasconderti con stealth Se sto cazzo Fammi correre Ma porco Giuda Dovevo andare Ok ragazzi Ok Aspettate un attimo Maledizione Maledizione Vai Akshar Vai Vai Akshar Corri La stamina La stamina Salta Vai Akshar Vai Vai C'è una porta Ok Non c'è un punto Per nascondersi Maledizione Maledizione Chiudi la porta Chiudi la porta Chiudi la porta Chiudi la porta Ok Adesso Dovevo andare Ma porco Giuda Non è possibile Ah Non si vede una minchia Qui E vai Sono ritornata indietro È servito È servito Steffmania Cazzo Cazzo Maledizione Allora Ragazzi Scusate Se ora Non state Capendo nulla Chiudi la porta Chiudi Non sanno aprire le porte Questi No 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 Ragazzi È impossibile Questo gioco Ragazzi È impossibile Scusatemi Se ora Non state Capendo la città Di minchia Nemmeno io Sapete No Questa è Cosa Ragazzi Ammassami Sono tuo Ammassami Ok Ok Non muoio Ancora Va bene Ah Qui Mi potevano Ascoltere Niente Ragazzi Ok Ragazzi Allora Un secondo Ok Ora Riuscite a sentirmi? Sì Scusate Scusate Se non Avete Capito In questo Pezzo Nemmeno io Ho capito Nulla Questa parte È molto Difficile Praticamente Si bisogna Attivare Le pompe Non so Quante Sono E a ogni Stanza Ci si bisogna Nascondere È veramente Tosta Questa Parte Quindi Mi devo Concentrare Sono Un sacco Di Tizi Cioè Io pensavo Fosse Uno No Io ne ho Visti Due Già Quindi Boh Beh Io direi Che Alla prossima Parte Ci vediamo Ciao Ciao Ciao